Tattica aperta, aracneeditrice, evolvenza, evoluzione della coscienza, reincarnazione. I cosiddetti espropri proletari sono stati i prodromi della forma coscienza che emanò il terrorismo. Nel libro, alla luce dell'ipotesi reincarnativa di cui parlano i maestri immateriali attraverso grandi medium, tre giovani sono soggiogati dalla superiore intelligenza di una donna che soggiace a sua volta alla forma pensiero comunemente chiamata ideologia. Tattica aperta è il nome di fantasia di una di quelle prime cellule di protesta che inventarono gli espropri proletari e allargarono poi la loro forma pensiero al terrorismo delle Brigate Rosse. La studentessa che con altri compagni fondò Tattica aperta, che nella storia ha uno pseudonimo e un nome e cognome inventati, ispirò l'autore quando questi rivide una sua ex alunna sui giornali di quegli anni che iniziavano a essere di piombo. Da qui all'applicazione della filosofia della reincarnazione dettata dai maestri immateriali e alla storia di Tattica aperta, il passo è stato molto breve. Grazie a tutti.